Tanti like per Capo Bastone, aga gaga gaga. Benvenuti al TG Bastone 24. Apriamo subito con la notizia principale, il raduno di Fabi J. Ci racconta la tragedia la nostra inviata, Maria Pia Recchia. Sangue, svenimenti, paura e morte. Questo è il bilancio catastrofico, del raduno di Fabi J, tenutosi a Catania. Dopo che una bimba minchia, è svenuta come un sacco di merda, un'orda di bambini zombie, ha superato la recinzione di sicurezza. L'idolo delle ecografie, quindi, è stato prelevato dalla security, e trasferito in un luogo protetto. La polizia, ha lanciato numerosi barattoli di Nutella, per disperdere la folla di neonati. Vogliamo Fabi J? Vogliamo Fabi J? Vogliamo Fabi J? Mr. Braccine Scheletriche, si è pure scusato subito dopo, sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Il sopravvalutato, ha incolpato la security del posto, che l'ha trascinato via, contro il suo volere. Beh, sei piazzato così bene, che se tira a vento, voli in Albania. L'inaudita violenza della banda monorenne, è durata fino all'arrivo delle mamme swag, che hanno riportato a casa, i propri pargoletti, per la poppata serale. Da Catania è tutto, a voi studio. Tanti like per capo bassone, aga gagaga.